Sei contenta per la vittoria al di là della prestazione personale, aspettavamo questa vittoria ormai da due partite, dopo due sconfitte, quella di Bari molto pesante, quella con la Torres, si è riuscita a portare a casa i tre punti, l'importante era quello, poi dai sui dribbling ne parleremo. Puoi parlare una volta, sei contenta della chiamata nazionale delle tue compagne della Tasseli? Moltissimo, perché è giusto che vedano i giovani e sono molto contenta che adesso la possano vedere insieme a Chiara e Linda che sono giovani secondo me di grande talento, un grande bocca al lupo a loro. Quest'anno sono molto d'accordo con la filosofia del mister che se giochi bene e continui a giocare, quando fai un errore subentra l'altro finché non fai errori. Diciamo che è uno stimolo a dare sempre il massimo e sempre di più e a sbagliare il meno possibile. Poi sappiamo benissimo che c'è grande rispetto tra me e lei, di conseguenza che gioca uno gioca l'altro, l'importante è fare bene. Pensate di avercela fatta anche quest'anno a salvarvi senza passare dei play-out? No, non ancora. A inizio anno siamo partiti con l'idea di non pensare ai play-out. È logico che un occhio ce lo dobbiamo fare perché abbiamo preso veramente tanti punti per strada e quindi bisogna stare attenti. 11 punti alla fine dal diretto avversario non sono niente, perché c'è lo scarto di 10 punti. Ne bastano 9 e fai play-out. Quindi sì.